La terza madre uscita a sala, vediamo. Mi è sembrato un film valido, completo, assolutamente maturo. Molto bello, perché io seguo da Argento da quando sono bambino, quindi personalmente è bello vedere comunque la conclusione di Inferno e di Sospiria. Bello, molto bello e avvincente. È stato molto particolare, comunque sulla scia degli altri due, però molto più interessante, Asia Argento fantastica. È un seguito che è degno di Sospiria e di Inferno. Bellissimo. Impressionante. Non si può guardare. È stato meglio degli scorsi film di Dario Argento. È rinato, è rinato. Secondo me è stupendo, anche se è un po' troppo splatter. Pacevano di più i primi, sinceramente. A me è piaciuto. Non si può fare un film del genere, soprattutto con il passato che c'è a lui si dovrebbe dare una regolata, insomma, no? È un grande Dario Argento, che devo dire? Io previsco più il genere noir di Dario Argento, però è stato bello questo. Great, really good. Veramente bello, è emozionante. Dario Argento è sempre sorprendente. È bellissimo, il film è bellissimo, molto entusiasmante. Veramente è uno dei più belli che ho visto. Grande Dario, come sempre. Secondo me ha concluso degnamente la trilogia. Mi devo ancora riprendere, sinceramente. È vero. Comunque è da vedere. Emilio Greco, Miriam Catania. Che ne pensate?